che succesi qua però 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 ragazzi no 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 allora ragazzi buongiorno bentornati sul canale iscrivetevi attivate la cammanella che è la cosa più importante di questo canale la cosa più importante è la simpatia che è la cosa più importante alcuni tifosi non capiscono la mia eronia quando faccio i video io perché poi se il napoli perde un giorno gli faccio i complimenti poi sono antisportivo ma ragazzi il calcio è fatto così il calcio è fatto di sfottò perché se no io lo chiudo il canale se devo fare il lecchino ad ogni partita allora ce ne possiamo andare voi mi seguite per questo perché a volte sfotto voi a volte voi sfottete me perché io mi sto allo sfottò quindi non vedo qual è il problema allora parliamo degli episodi di inter barcellona quello che è successo ieri sera io l'avevo detto che l'inter vinceva tranquillamente che il barcellona era poca roba no perché c'è gente su youtube che davano questo grande barcellona xavi cosi san ziro ha sempre il suo fascino infatti non so come si possa battere uno stadio del genere mia opinione detto questo allora veniamo all'episodio di cialanoglu quello è fallo a piede a martello quello è rosso tutta la vita non sanzionato poi dici che uno pensa alla mala fede no e poi arriviamo a questo calcio di cure che ahimè ragazzi voi potete sbarterci la testa quando volete quello è calcio di rigore possiamo stare qui fino a mezzanotta di quello è calcio di rigore io posso capire fossimo stati nell'epoca che non c'era il bar la tecnologia adesso ci hanno 3000 immagini ci hanno tutta la tecnologia a disposizione quello che è successo ieri a san ziro è un qualcosa di scandaloso giustamente anche io se ero un tifoso dell'inter a questo oggi stavo godendo perché giusto che si goda perché comunque i tre punti l'inter è a 6 punti il barcellona 3 quindi anche io avrei goduto però ragazzi è clamoroso è veramente scandaloso è lo stesso interista deve ammettere che quei due episodi uno è rosso diretto perché poi se vai a annullare il gol del barcelona per il tocco di mano devi con convalidare il calcio di rigore che poi non è detto che avrebbe segnato per l'amor di dio non è detto quindi nel calcio mai dire ma però è calcio di rigore cioè ieri abbiamo assistito a un qualcosa di clamoroso ieri abbiamo assistito a qualcosa di scandaloso ieri allora ragazzi il problema è che siamo nell'epoca varro queste cose non possono accadere è il gol di milic è il mano ci sono certe decisioni arbitrali che lasciano lasciano che cazzo è che cos'è ma è fatto apposta per le scommesse questo varro perché se no non ha senso è prima il regolamento dei falli di mano e poi no e poi sì e poi a discrezione dell'albitro e poi è una vergogna io ieri mi vergogno di quello che ho visto perché se al posto dell'inter ci fosse stata la juve se al posto dell'inter ci fosse stato il barcellona che vi avrebbero dato un episodio del genere ma adesso voglio vedere tutti voi noi tifosi che cosa stavamo dicendo furto e qual è la prima volta che succede gli altri anni ci favorivano a noi a noi nel centro noi italiane perché ne abbiamo subiti di furti in europa però con l'epoca varro non si possono fare questi errori ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti io la penso così nell'epoca dove esiste il bar e c'è la tecnologia per evitare queste cose non possono accadere queste cose non esiste stento a crederci stento a crederci a quello che ho visto ieri una cosa schifosa io stento a crederci veramente raga no non lo accetto io stento a crederci non lo accetto raga mi dispiace non lo accetto non lo posso accettare io non lo accetto perché c'è la varra mani quanto una casa non data espulsione acciano non esiste e complimenti all'inter per la vittoria ha meritato assolutamente però in epoca varro gli episodi sono episodi perché se allora levatela fate un favore facciamo una firma facciamo una petizione leviamo questa varra perché tanto non serve a un cazzo si esulta ti levi maglietta ti piglia un infarto e il gol annullato quindi è una cazzata leviamo in mezzo sta varra ciao belli